Villa Certano è una splendida residenza storica, dimora nel rinascimento del famoso pittore e architetto Lorenzo di Pietro Vecchietta. Immersa nella tranquilla campagna senese e centro di una storica tenuta, è una location esclusiva per un indimenticabile ricevimento noziale. Questa dimora è il fulcro di un antico complesso architettonico, che comprende uno splendido borgo, adibito attualmente alla ricezione turistica e una cappella del X secolo. La villa conserva la sua bellissima facciata settecentesca e tutto il fascino e il prestigio di una storica dimora. Il parco che la circonda, con le sue splendide piante plurisecolari, immerso nella quiete delle dolci colline senesi, è un luogo di grande bellezza naturalistica, che ospita le splendide case del borgo antico e l'antichissima cappella. Il borgo è adibito alla ricezione turistica effettuata nelle sue incantevoli ed antiche case. Alla suggestione della struttura architettonica, che conserva gli originali inserti in pietra e in legno, si unisce l'attenta cura degli arredi e la grande qualità dei servizi, per una splendida e rilassata vacanza. Naturalmente potrete usufruire del servizio di ospitalità per trascorrere la vostra prima notte di nozze o far accomodare i vostri invitati. La villa è il fulcro di un'azienda agricola votata alla produzione di miele, vini Dog e il GT e olio d'oliva.